Ho detto che passerò professionista a maggio all'Open Italia, sarà un passo importante chiaramente, insomma diventerà da una passione un gioco che ormai non era proprio più un gioco, però un lavoro vero e proprio diventerà. È sempre stato un mio sogno, ho sempre avuto l'idea di diventare un professionista da grande come lavoro, una cosa molto strana perché un bambino che dice lavoro da grande farò professionista di golf, però passare così giovane mi sono trovato in mezzo, dopo gare importanti, risultati importanti, ho deciso che secondo me era il momento giusto del passare al professionista. Il sogno di un giovane giocatore di golf qual è? Vincere uno dei quattro major come esistono nel tennis, esistono nel golf con diversi nomi, però sono i tornai più importanti, i quattro tornai più importanti e poi giocare la Ryder Cup che è l'evento per eccellenza. Adesso si aggiunge il giocare le Olimpiade.